L'Ovidiana torna a giocare al Pallozzi a distanza di molto tempo ed ottiene un punto nel derby con il Canzano. È stato un 2-2 sofferto se si considera che gli ospiti per due volte si erano portati in vantaggio. Nel Canzano è assente l'attaccante Curtai, mentre il capocannoniere Michele Scarpone, ex del Sulmona, pur autore di belle giocate, rimarrà all'asciutto. La prima occasione di marca locale, al quinto dopo una rimessa laterale Romanelli colpisce con il petto e la palla dopo una deviazione di testa di Enzo Gennitti finisce a Pallozzi ma la sua conclusione termina fuori. Al diciassettesimo il Canzano passa in vantaggio, Celeste manda in avanti e Scarpone lancia dentro l'area con il pallone che viene preso dalla pietra che a tu per tu con Dicenzo spedisce in rete. L'Ovidiana non si arrende, al ventitresimo crea pericolo con una punizione di Lucci ma l'estremo difensore Forcucci con una mano devia in angolo. Al trettacquattresimo la squadra di Mezzadri pareggia, prima conclude dentro l'area Romanelli e poi dopo la respinta di Forcucci si impossessa del pallone Lucci che si libera di un avversario e con un diagonale spedisce in rete. Tre minuti dopo si vede ancora l'Ovidiana, Tottone parte da centrocampo e lancia in avanti dove Pallozzi sul filo del fuorigioco conquista palla e si porta al tiro che però viene parato, mancando l'occasione per chiudere in vantaggio il primo tempo. La ripresa parte con un cambio dell'Ovidiana, Giuseppe Natale al posto di Falcione, si verifica una nota di colore perché il Canzano incomincia il secondo tempo in dieci uomini in quanto nessuno si era accorto che mancava Enzo Gennitti che entra in campo dopo che era già trascorso un minuto di gioco. Al nono ci prova la pietra con un tiro con l'esterno del piede che viene respinto da Dicenzo, al diciassettesimo si impone Scarpone che prima supera Bucci e la Civita e poi esegue un traversone dalla sinistra, in area conclude positivamente Liberatore che permette al Canzano di tornare in vantaggio. Due minuti dopo l'Ovidiana reclama quando Pallozzi, contrastato da Antonetti, finisce a terra. Al venticinquesimo l'Ovidiana pareggia dopo un corner seguito da Di Bacco, in area colpisce di testa Natale, con la palla poi sui piedi di Lucci che segna realizzando la doppietta, ma il Canzano reclama il fuorigioco. Nel finale gli ospiti sfiorano il nuovo vantaggio con un diagonale di Tosti terminato a lato. Al novantacinquesimo i padroni di casa finiscono la partita in dieci dopo un fallo sulla pietra di Vincenzo Valeri che viene espulso per doppia munizione. L'abbondante recupero concesso dall'arbitro Vitucci si conclude al novantaseiesimo, subito dopo un tiro centrale del Canzano con Goti parato da Dicenzo. Giuseppe Lucci dell'Ovidiana, autore di una doppietta quest'oggi, te l'aspettavi questi due gol? No, sinceramente non me l'aspettavo proprio, è stata una cosa veramente inaspettata anche perché pensavo di giocare in difesa. Quindi giocare al centrocampo mi ha un po' spiazzato, però ho fatto del mio meglio, ho fatto quello che potevo e alla fine quello che ho detto in campo si è visto con i due gol.